Ciao a tutti, in questo video voglio parlare del panteon della Kimbanda, i sette regni spirituali. Quindi in questo video ci addentreremo nell'anima, cosiddetta anima nera della Macumba, che è la Kimbanda. Prima però iscriviti al canale e seguimi sulla pagina Instagram Massimo Terramasco. Ti ricordo di notte che sul canale ti puoi abbonare e abbonandoti potrai ricevere delle risposte precise e mirate alle tue domande. E adesso veniamo al tema del panteon della Kimbanda, i sette regni spirituali. Allora, la filosofia religiosa della Kimbanda prevede un unico dio creatore che è Nzambi e che è, diciamo, in una visione panteistica identificato con l'universo e, diciamo, l'universo viene suddiviso, l'universo e la Terra sono suddivise in sette regni spirituali. Ognuno di questi regni spirituali è stato stabilito da Nzamba e ha dei guardiani, dei guardiani che sono degli spiriti o delle divinità che vennero poste lì da Nzambi, questo dio creatore, per governare, diciamo, su questi regni. Quali sono questi regni? Ognuno di questi regni, diciamo, tratta diversi aspetti. I vari aspetti, diciamo, di come l'umanità interagisce e stabilisce un rapporto con gli spiriti, gli spiriti della natura, fondamentalmente. Il panteon della Kimbanda è formato quindi da divinità e spiriti suddivisi in sette regni. I sette regni della Kimbanda, sette regni Kimbanda esteriori e i sette regni della Kimbanda interiori. Questi regni sono noti come i sette regni maggiori della Kimbanda e i sette regni inferiori. Poi vi è un qualcosa di esterno, vi è il regno del cielo dove risiede Nzambi, questa divinità suprema, che non è considerato una categoria di uno dei regni della Kimbanda, perché Nzambi è il creatore ed è soltanto per, a causa o per, diciamo, merito di Nzambi, che i regni esteriori e interiori esistono. Diciamo che il sistema religioso della Kimbanda, da questo punto di vista, è un po' maschilista, perché Nzambi è considerato maschile, ma può creare dualità nella sua opera e nelle sue creazioni. I primi tre regni, diciamo, delle divinità Kimbanda vengono chiamati come la Trinità Kimbanda, che è un po' Trinità perché è composta da tre particolari divinità, che sono gli Exu Majorals, gli Exu Rei e Maria Padilla Reina. Insieme, diciamo, queste tre entità, queste tre forze spirituali, governano l'universo e anche la Terra, in nome di Nzambi. È per questo che, diciamo, i praticanti della Kimbanda venerano questa Trinità, sempre torna il concetto di Trinità, e il concetto di Trinità nella Kimbanda è una credenza fondamentale. E diciamo che la filosofia della Kimbanda prevede appunto che le divinità del Panteon Kimbanda sono state poste nei regni da zambi per sorvegliare, diciamo, l'universo e per sorvegliare le azioni dell'essere umano. Nel regno dei confini esteriori dei regni della Trinità Kimbanda si trovano i misteri degli intimi sette regni maggiori Kimbanda e sette regni minori Kimbanda. I sette regni minori sono governati da entità, dalla divinità Kimbanda del re, Exurei, e dalla regina, Maria Padilla Reina, quindi il re e la regina. La divinità regina Maria Padilla Reina è anche nota come Pombagira dai praticanti religiosi della Kimbanda. Quindi la Pombagira è praticamente la, se vogliamo, è praticamente una sorta di divinità femminile o la controparte del re, Exurei. Quindi questo è la cosa importante. Quindi vi è anche appunto, quindi per quanto riguarda le tradizioni poi religiose, vi sono quindi delle divinità maschili e delle divinità femminili. Si ritiene anche che le divinità del re, Exurei e Pombagira, abbiano sette differenti sentieri che sono divisi tra i sette regni minori della Kimbanda. Ognuno dei sette regni minori Kimbanda è governato da un preciso sentiero spirituale delle divinità e quindi da queste divinità che sono Exurei e Pombagira. E quindi in ognuno di questi sette regni minori vi sono nove spiriti guardiani che sono Exurei e Pombagira. Questi spiriti guardiani sono lì per assistere il re e la regina, quindi Exurei e la Pombagira e sono fondamentalmente divinità maschili e divinità femminili. E questi spiriti, quindi che governano questi regni, che sono gli Exu e le Pombagira, operano sotto diretto controllo del re, Exurei, e della regina Reina, quindi Pombagira Reina. Vi sono molti spiriti individuali, quindi vi sono tantissimi Exu e tantissime Pombagira. si pensa che esistono 121 differenti Exu e 121 differenti Pombagira trovati nei sette regni minori della Kimbanda. Diciamo anche qua, a seconda delle traduzioni della Kimbanda, vi sono differenze. Secondo la filosofia religiosa della Chiesa americana, la suddivisione è questa. Sebbene, diciamo, la Kimbanda, la filosofia della Kimbanda, la religione della Kimbanda, creda che queste entità spirituali abbiano un grande impatto e influenza sulle vite, sul destino degli esseri umani, si crede anche che Nzambi, nel momento dell'atto della creazione, l'atto divino della creazione dell'essere umano, diede all'essere umano il libero arbitro, cioè la libertà di scelta e la libertà di decidere quale sentiero prendere in questa vita. Questo è un concetto, diciamo, importante. E un altro concetto importante è che la tradizione della Kimbanda non esiste il giusto o sbagliato, il bene e il male, ma vi sono solo delle conseguenze, delle conseguenze che sono un atto, diciamo, oppure una... risultano dei risultati, degli effetti che sono cause, diciamo, delle nostre azioni. E questi spiriti e queste divinità della Kimbanda, quindi gli Exhu e le Pombasjiras, vennero poste da Nzambi fondamentalmente per assistere l'umanità in qualsiasi decisione che si possano prendere e per aiutare gli esseri umani nella realizzazione dei loro desideri. e quindi è per questo motivo anche che la Kimbanda è incentrata sulla venerazione della divinità spirituale, nota appunto come Exhu. Exhu è il messaggero divino, diciamo, degli incroci della vita. quando 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 scegliamo di prendere una decisione Exhu, quindi questo spirito, è sempre lì presente e ci ricorda le conseguenze che derivano dalle nostre azioni e dalle libertà di scelta. Quindi gli incroci della vita, anche qua il termine incrocio, il crocicchio, è fondamentale. Ricordo un po', da un certo punto di vista la sincronicità, gli incroci della vita rappresentano le molte conseguenze che i sentieri che possono incontrare la nostra vita a causa delle nostre scelte. Quindi le cose capitano in funzione delle nostre scelte. I praticanti della tradizione religiosa Kimbanda, quindi credono nel concetto spirituale di libero arbitro come concessione diciamo della libertà, come concessione all'umanità ad Anzambi che è questo spirito creatore. Bene, per questo video è tutto, se ti è piaciuto metti un like, iscriviti al canale, seguimi sulla pagina Instagram Massimo Teramasco e ti ricordo che sul canale ti puoi abbonare e abbonando ti potrai ricevere delle risposte precise e mirate alle tue domande. Ciao a tutti!